Ciao a tutti e benvenuti in questo che è l'ultimo video di tutto il tutorial per realizzare il presepe questo lungo tutorial che è composto da 5 video che io vi metto sia in descrizione che nelle schede in modo che voi possiate trovarli in maniera semplice oggi dobbiamo fare delle cose abbastanza semplici quindi non è che dovremo imparare cose nuove necessariamente rispetto alle altre volte quindi vi farei vedere subito le parti che dobbiamo andare a realizzare e i materiali che occorrono vado quindi qui a smontare tutta la situazione e prendo il bambino che è molto semplice in quanto io ho provato varie opzioni però le braccia sinceramente venivano troppo piccoline e direi quasi impossibili da fare a meno che uno non stesse proprio lì a voler impazzire comunque se qualcuno vuole perderci del tempo può tranquillamente andarlo a fare io ho deciso di realizzarlo così come se fosse appunto avvolto in fasce poi c'è questo pagliericcio qua che in realtà è rafia ho usato questo materiale per far sembrare che qui ci sia insomma della paglia come nella mangiatoia come per tradizione appunto si dice che fosse stata nella mangiatoia quindi che cosa ho fatto? io ho preso dei fili così questo non lo rifaremo quindi alla fine del tutorial li ho uniti qua in mezzo con un nodino e poi va bene li ho piegati in questa maniera per andarli poi a posizionare ecco qua dietro al bambino ok insomma avete capito come la seconda cosa è questo lenzuolino copertina come volete e potete anche qui avvolgerci anche il bambino perché potete anche fare in questa maniera e andarla a mettere nella gulletta in qualche modo con quella rafia appunto qua dietro quindi ecco questa copertina si può utilizzare anche così ok avete capito anche qua come fare ho deciso di realizzarla in maniera molto semplice facendo un rettangolo di maglie basse e sono 30 maglie basse per 16 giri andate e ritorno e quindi viene questo rettangolino lo andate a stirare logicamente perché altrimenti non vi rimane così appiattito vedete anche qui voi se vi viene in mente qualcosa di più carino l'ultima cosa quindi la culla ovvero va bene la mangiatoia e che cosa ho fatto? ho realizzato questa forma ecco perché rettangolare non mi piaceva troppo e quindi ho deciso di farla un attimo in questa maniera c'è una parte inferiore che bisogna realizzare un pochino qua in maniera abbastanza semplice comunque e poi ci sono le sponde e due rifiniture una superiore e una inferiore ma non vi dovete spaventare perché è tranquilla come esecuzione quindi stessi colori delle altre volte bianco, rosa e beige in più l'uncinetto sempre mi raccomando il numero 2,5 perché altrimenti come ho detto negli altri video se fate i personaggi con uncinetti differenti poi vi viene tutto sproporzionato rispetto un personaggio rispetto all'altro segna maglie perché va bene sono indispensabili forbici e ago da lana ecco queste sono le cose che dovete andarvi a procurare ok possiamo tranquillamente andare ad iniziare per fare la culla avviamo 13 catenelle quindi 1 2 3 4 12 e 13 e andiamo a segnare la tredicesima catenella adesso a partire dalla seconda catenella dall'uncinetto che è questa contiamo 11 maglie basse per cui 1 2 3 4 5 e 11 in questa catenella che rimane noi dobbiamo andare a fare 4 maglie basse per cui facciamole tutte nella stessa catenella quindi 1 2 3 e 4 sull'altro lato della catenella facciamo 10 maglie basse e andiamo anche a fermare il filo qua sotto per cui 2 3 4 9 e 10 in questa che era la dodicesima catenella questa qua prima del segnale noi andiamo a fare 3 maglie basse tutte nello stesso punto quindi 1 2 e 3 e chiudiamo con una maglia bassissima sulla catenella che avevamo segnato che era appunto la tredicesima ok chiudiamo la maglia bassissima con la maglia bassissima e abbiamo terminato il primo giro con 28 maglie basse in totale perché questa catenella non la contiamo e non la andremo mai a contare neanche successivamente perché ci servirà solamente per chiudere con la maglia bassissima quindi la andiamo a fare e la segniamo però non la conteremo nel secondo giro noi dobbiamo andare a fare 4 aumenti e da 28 raggiungeremo 32 maglie basse però li andremo a fare ai 4 lati quindi ne faremo uno qui uno qui poi uno qua e uno alla fine di questi aumenti adesso andiamo a fare 12 maglie basse per cui contiamo 1 2 3 11 e 12 andiamo ora a mettere gli aumenti e ne andremo a mettere 2 qui e 2 alla fine per cui mettiamo su questa maglia bassa qui il primo aumento quindi facciamo 2 maglie basse nella stessa maglia di base ok e nella maglia bassa successiva l'altro aumento per cui altre 2 maglie basse nella stessa maglia di base poi sull'altro versante qua andiamo a fare 12 maglie basse quindi 1 2 3 11 e 12 ok posizioniamo su queste 2 maglie gli altri 2 aumenti quindi il primo in questa maglia in questa maglia e l'altro aumento nella maglia bassa successiva che è questa e saranno le maglie basse numero 31 e 32 perché il secondo giro si chiuderà con 32 maglie basse andiamo in questa maglie basse andiamo sulla prima catenella andiamo a fare la maglia bassissima e chiudiamo il secondo giro nel terzo giro dobbiamo fare 8 aumenti e quindi da 32 andremo ad ottenere alla fine 40 maglie basse comunque noi facciamo la prima catenella la segniamo e poi 12 maglie basse anche qua 11 e 12 in queste 4 maglie che abbiamo adesso quindi 1 2 3 4 noi andiamo a fare 4 aumenti per cui questo è il primo questo è il secondo aumento 2 maglie basse nella stessa maglia di base poi facciamo il terzo aumento quindi altre 2 maglie basse nella stessa maglia di base e il quarto aumento questo qua e nell'altro versante facciamo 12 maglie basse 11 e 12 rimangono 4 maglie 1 2 3 4 questa è la chiusura e ci andiamo a fare 4 aumenti come abbiamo fatto dall'altra parte quindi 1 il primo aumento poi ancora 2 maglie nella stessa maglia di base quindi il secondo aumento poi facciamo il terzo aumento ed il quarto aumento qui ok e questa qua sarà la maglia bassa numero 40 del terzo giro facciamo come sempre ovvero maglia bassissima sulla prima catenella qua in fondo e chiudiamo il terzo giro da qui in poi ovvero dal terzo giro in poi il lavoro sarà quasi sempre uguale cioè abbastanza ripetitivo in quanto noi andremo a mettere un aumento nel punto di passaggio tra la parte rettilinea e quella invece che curva quindi metteremo un aumento qui uno qui uno qui e un altro qui sempre 4 aumenti ogni giro e lasceremo invariato questo numero di maglie che sarà sempre 12 e quest'altro numero di maglie che sarà sempre 12 il numero e invece le maglie che si troveranno su questa parte curvilinea aumenteranno progressivamente di due in due ok andiamola a fare facciamo prima queste 12 maglie e arriviamo a dove dobbiamo mettere l'aumento iniziamo il quarto giro sempre nella stessa maniera con la quale abbiamo fatto anche i giri precedenti ovvero con la catenella che andiamo a segnare ma non contiamo ok poi facciamo 12 maglie basse ecco le nostre 12 maglie basse adesso nel punto di passaggio tra la parte rettilinea e quella curvilinea andiamo a metterci l'aumento quindi qua noi mettiamo un aumento due maglie basse nella stessa maglia di base facciamo sei maglie basse quindi una due tre quattro cinque e sei siamo arrivati da quest'altra parte mettiamo l'aumento eccolo qui e poi facciamo altre 12 maglie basse adesso dobbiamo mettere il terzo aumento e quindi dopo le 12 maglie basse andiamo a mettere l'aumento e sei maglie basse come dall'altra parte quindi una due tre tre quattro cinque e sei e nell'ultima maglia qua in fondo ci facciamo il quarto aumento andando così a chiudere il quarto giro con 44 maglie basse facciamo facciamo la maglia bassissima facciamo la catenella la segniamo ma non la contiamo ed iniziamo il quinto giro con 12 maglie basse dopo le 12 maglie basse mettiamo l'aumento qui e nella parte curvilinea questa volta andiamo a mettere 8 maglie basse anziché 6 quindi una due sette e otto ci troviamo nella parte speculare rispetto a questa quindi adesso noi andiamo a mettere l'aumento e poi facciamo 12 maglie basse dopo le 12 maglie basse quindi anche da questa parte noi andiamo a fare l'aumento e a mettere le 8 maglie basse prima dell'altro aumento quindi una due tre otto e qui mettiamo il quarto aumento chiudiamo così il quinto giro con 48 maglie basse chiudiamo il quinto giro con la maglia bassissima facciamo la catenella e iniziamo il sesto sempre con 12 maglie basse prima dell'aumento dopo le prime 12 maglie basse io vado a mettere l'aumento ok ed in questa parte adesso anziché 8 maglie come nel giro precedente ne vado a mettere 10 quindi una due nove e dieci sto dall'altra parte quella speculare rispetto a questa per cui metto il secondo aumento ok e poi vado a fare altre 12 maglie basse sulla parte rettilinea prima del terzo aumento a questo punto dopo le 12 maglie basse io faccio il terzo aumento eccolo qui e prima del quarto aumento metto 10 maglie basse così come ho fatto qua sopra e finisco con un aumento 10 e come vi dicevo sopra a quest'ultima maglia bassa io faccio l'aumento il quarto aumento e chiudo il sesto giro con 52 maglie basse nel settimo giro facciamo ancora nella stessa maniera quindi maglia bassissima catenella e le prime 12 maglie basse metto il primo aumento e questa volta nella parte curvilinea qua vado a mettere 12 maglie basse anziché 10 1 2 3 12 metto qua l'aumento ok il terzo e altre 12 maglie basse sulla parte rettilinea prima di fare il terzo aumento metto il terzo aumento e prima del quarto che andrà sopra questa maglia qui andrò a fare 12 maglie basse quindi in questo giro è molto semplice sono tutti 12 12 maglie basse l'aumento 12 maglie basse l'aumento 12 maglie basse l'aumento 12 maglie basse e l'aumento pertanto ecco qui vado a fare il quarto aumento e questa sarebbe la maglia numero 55 e l'altra maglia dell'aumento la numero 56 perché il settimo giro si chiude con 56 maglie basse adesso andiamo a fare l'ultimo giro della base che è l'ottavo e anche qui andiamo a fare maglia bassissima cadenella e 12 maglie basse in questa maglia ci facciamo il primo aumento e poi qui invece che 12 maglie basse come nel giro precedente ne facciamo 14 quindi 1 2 3 13 e 14 dopo queste 14 maglie basse io qua vado a mettere l'aumento che è il secondo e prima del terzo aumento come sempre metto 12 maglie basse mettiamo il terzo aumento e nella parte qua curvilinea vado a mettere come dall'altra 14 maglie basse prima del quarto aumento che andrò a fare qua quarto aumento e quindi chiudo l'ottavo giro con 60 maglie basse adesso vado anche qui a chiudere con la maglia bassissima e ho terminato la base di questa culletta adesso dobbiamo continuare a fare dei giri sempre con 60 maglie basse e sempre lavorando a cerchio per un pezzetto però questo primo giro lo lavoriamo in costa e gli altri normalmente comunque ecco vediamo un attimo almeno all'inizio come procedere quindi nono giro noi facciamo la nostra catenella come sempre l'andiamo a segnare ma non la contiamo e andiamo a fare 60 maglie basse sopra le sottostanti però prendendole appunto come dicevo in costa ovvero soltanto dobbiamo andare a prendere soltanto la parte posteriore della maglia ecco in questa maniera qui l'abbiamo fatto ormai moltissime volte facciamo 60 maglie basse in questa maniera e ci ritroviamo qua in fondo dove avremo terminato il nono giro vado a chiudere anche il nono giro con la maglia bassissima su questa prima catenella che avevo segnato ok faccio ancora una catenella e per quanto riguarda i giri numero 10 11 12 e 13 quindi 4 giri io faccio sempre 60 maglie basse ma questa volta prese normalmente quindi non lavorate in costa prendiamo tutta la maglia bassa sottostante e facciamo 4 giri con 60 maglie basse al tredicesimo giro il risultato è questo ho la base con questa piccola sponda della della culla a questo punto io rifinisco sia la parte superiore che la parte inferiore per quanto riguarda la parte superiore possiamo continuare tranquillamente perché abbiamo già il filo qua per cui chiudiamo va bene con la maglia bassissima ma poi dobbiamo continuare a fare maglie bassissime sopra le maglie basse sottostanti ecco perché io ho rifinito ho pensato di rifinire questa culla con un giro di tutte maglie bassissime ecco quindi andiamo a fare maglie bassissime sopra le maglie basse sottostanti cerchiamo di non farle troppo tirate teniamo una tensione direi normale in modo però da restringere un pochino il bordo superiore di questa colletta facciamo qua l'ultima maglia bassissima ok e avremo terminato quindi questo giro di rifinitura in questa maniera la culla è venuta un pochino più stretta abbiamo diciamo regolarizzato un pochino questo bordo superiore che rimaneva un pochino allargato benissimo a questo punto tagliamo il filo fermiamo con l'ago un attimo qua sotto e provvediamo a questa parte inferiore qui della culla per la parte inferiore ho deciso quindi di fare questa maniera allora vado sempre nella parte dove c'è la chiusura quindi qui vado qua dove c'è la maglia in costa e dove c'è questo che è praticamente l'ottavo giro in questa maniera e aggancio intanto il filo e faccio una catenella procedo poi sempre nella stessa maniera ovvero prendendo questa parte di maglia bassa che era quella in costa e poi puntando l'uncinetto ecco a livello dell'ottavo giro adesso faccio un pochino di maglie e vi faccio vedere meglio dove dobbiamo andare a mettere l'uncinetto allora prendiamo questa parte e poi andiamo lungo l'ottavo giro così ok vediamo che cosa abbiamo fatto allora ho preso questa parte di maglia ecco qui infatti non si vede più e poi sono andata lungo quello che era l'ottavo giro quindi qui in poche parole ecco così questa è la parte che bisogna inglobare all'interno della maglia bassa il pezzo della maglia bassa in costa e poi lungo questa linea dell'ottavo giro voglio dire una cosa molto intuitiva questi punti saranno 60 perché logicamente queste maglie basse qua erano 60 arrivati qua alla fine andiamo a fare la maglia bassissima su questa prima catenella che avevamo segnato e chiudiamo questo giro inferiore di rifinitura adesso tagliamo il filo andiamo a fermare tutto qua sotto e poi vi faccio vedere il risultato finale il risultato è questo e io direi che possiamo essere abbastanza soddisfatti allora la coperta è molto semplice da realizzare in quanto si tratta di fare un rettangolo a maglie basse di 30 maglie per 16 giri quindi che cosa facciamo iniziamo una catenella di 31 punti e poi andiamo a fare delle maglie basse in giri d'andata e ritorno va bene iniziamo soltanto una piccola parte perché questa voglio dire è molto molto semplice ho fatto 31 catenelle e adesso vado sulla seconda catenella dall'uncinetto quindi in questa catenella qui a fare la prima maglia bassa continuiamo poi a fare maglie basse sopra le catenelle sottostanti e come vi dicevo prima le maglie basse dovranno essere 30 ecco le 29 maglie basse e adesso vado a fare la trentesima sull'ultima catenella qui in fondo in realtà quella che era la prima catenella con la quale avevamo iniziato ok ecco e queste sono quindi 30 maglie basse del primo giro adesso per voltare il lavoro noi che cosa facciamo come sempre una catenella voltiamo il lavoro e la seconda maglia bassa noi la facciamo non qui perché questa maglia bassa è sostituita dalla catenella ma qui e avremo due maglie basse questa sostituita dalla catenella e l'altra mi raccomando non andate a sbagliare altrimenti non vi viene un rettangolo preciso controllate ogni tanto che le maglie siano sempre 30 ed ecco andate tranquillamente su in maniera semplice per 16 giri per il bambino iniziamo con il rosa prima di tutto e poi facciamo l'anello magico dove all'interno andiamo a mettere 6 maglie basse questa come sempre è la prima catenella che io faccio però non vado a contare e inizio qua con la prima maglia bassa che vado a segnare perché lavoreremo a spirale quindi una due tre quattro cinque e sei maglie basse nell'anello magico vado a stringere e nel secondo giro devo fare sei aumenti per cui andrò ad ottenere 12 maglie basse nella maglia che avevo segnato io faccio il primo aumento e di questo aumento segno la prima maglia questa e questa è la seconda maglia dell'aumento quindi nella prima maglia io ho fatto due maglie quindi un aumento continuo in questa maniera e su tutte sei le maglie basse io vado a fare un aumento per cui alla fine nel secondo giro avrò ottenuto 12 maglie basse adesso per cinque giri ovvero dal terzo fino al settimo giro io vado sempre a fare 12 maglie basse quindi vado necessariamente a maglie basse sopra le maglie basse sottostanti e segno sempre la prima eccomi al settimo giro io ho già riempito questa parte perché poi si stringerà troppo l'apertura allora nell'ottavo giro io devo fare sei diminuzioni quindi questa sarà la prima diminuzione che vado anche a segnare e poi continuerò con le altre e sei benissimo fatta la sesta diminuzione il collo si è molto ristretto e adesso devo andare a fare il corpo del bambino nel nono giro io devo andare a aumentare di nuovo quindi da sei maglie devo tornare a 12 cambio il colore e faccio sei aumenti quindi in questa prima maglia io inizio a fare la maglia bassa qua con il rosa e poi la chiudo con il bianco e la vado a segnare perché questa è la prima maglia dell'aumento adesso faccio la seconda poi tre e quattro nel frattempo cerco di mettere sotto questi fili perché altrimenti non potrei andarli a fermare in alcuna maniera quindi cinque sei undici e dodici nel dodicesimo giro io faccio ancora dodici maglie basse quindi vado a maglie basse sopra le maglie basse sottostanti nell'undicesimo giro io da dodici maglie ne devo ottenere diciotto quindi farò una maglia bassa e un aumento per sei volte quindi questa è la prima maglia bassa e nella maglia bassa successiva io ci vado a fare l'aumento tutto questo ripetuto sei volte e avrò ottenuto diciotto maglie basse nell'undicesimo giro adesso vado a fare sette giri quindi dal dodicesimo fino al diciottesimo con diciotto maglie basse nel diciannovesimo giro io devo andare a restringere per cui da diciotto maglie ne andrò ad ottenere di nuovo dodici facendo una maglia bassa e una diminuzione per sei volte quindi qua faccio la maglia bassa e poi la diminuzione ripeto tutto questo sei volte quindi fino alla fine e avrò 12 maglie basse nel diciannovesimo giro prima di fare le ultime sei diminuzioni nel ventesimo giro ed andare ad ottenere sei maglie basse e quindi necessariamente puoi andare a chiudere con l'ago tutta la questione vado a riempire perché poi l'apertura diventerà veramente troppo troppo piccola ora l'ultimo sforzo per fare queste sei diminuzioni tutte di fila nel ventesimo giro una volta terminate queste diminuzioni andiamo sulla prima maglia bassa qua ci facciamo la maglia bassissima e chiudiamo il lavoro adesso con l'ago cerchiamo di chiudere questa parte finale come abbiamo fatto finora con gli altri personaggi e avremo terminato anche il bambino adesso potete andare a rigamare col filo qua gli occhietti e la boccuccia e avrete terminato anche il bambino con questo video abbiamo terminato tutto il tutorial per realizzare il presepe è stato un lavoro molto lungo per me anche abbastanza faticoso perché inventare ex novo tutti i personaggi non è che sia stato molto semplice e ho dovuto disegnarli e poi trasformarli in amigurumi e quindi ripeto è stato un lavoro piuttosto lungo che mi ha impegnato molto tempo vi ringrazio per aver avuto la pazienza di aspettare magari tra un tutorial e l'altro avendo anche un certo grado di fiducia in me in quanto nel caso non avessi messo magari uno dei personaggi poi alla fine vi sareste ritrovati senza il presepe completo però va bene io di solito queste cose se evito di farle e poi può darsi pure che in seguito mi potrà capitare qualcosa di simile però in genere cerco di non farlo per cui continuate a guardare questo tutorial come state facendo in questi giorni perché ho visto che lo guardate molti mettete tanti mi piace sotto questo video sotto tutti gli altri video dei personaggi e alla playlist mettete mi piace anche alla pagina facebook andate a interagire con gli altri social quindi instagram twitter anche che non lo cito mai ma ringrazio e saluto anche tutti gli amici di twitter perché sono in molti che mi contattano anche attraverso questo social ora vi auguro buon natale anche se siamo a un mese di distanza però io credo che di cose natalizie a questo punto non ne faremo più ricominceremo la nostra programmazione tradizionale anche perché vi potrebbero servire degli oggettini da regalare sotto natale che non siano cose prettamente natalizie quindi cappellini scarpine guanti e cose varie insomma l'ultima cosa tutti gli schemi scritti per realizzare questi personaggi li trovate sul mio blog quindi potete aiutarvi con la didascalia scritta e con il video ciao buon lavoro e aspetto quindi nuove iscrizioni ciao